La partita ha giocato bene e abbiamo sfruttato subito le occasioni che ci sono capitate, finalizzando subito. Poi quando va in vantaggio queste partite qua, noi venivamo da tanti risultati consecutivi ottimi. Loro pure avevano appena vinto con l'Accademia Prima del Castifico, quindi insomma venivano carichi. Noi volevamo dare una continuità ai risultati, siamo riusciti e siamo contenti. Abbiamo fatto gruppo che nel calcio è importante, ci vogliamo bene. Danilo Novelli, la dimostrazione di Danilo, lui diciamo è un giocatore abbastanza egoista, ma ha dimostrato nelle ultime partite anche oggi che quando poteva fare gol lui ha fatto fare gol al capitano, a Faggetti e quindi questa è una dimostrazione di gruppo e di volontà nel fare bene.